Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda, andiamo. La prima azione è una strozzetta paurosa, pieno. Sincronizziamo gli orologi, che ora fate? Le 10 e 30. 11 e un quarto. 10 e 20. Le 10 e un quarto. Le 10 e un quarto. Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Andiamo.